Il Capitano Passiamo tutti un momento di difficoltà, lo vedo da Capitano, lo vedo da umano che anche il pubblico fa fatica, è ancora più importante rimanere insieme, lottare insieme perché io credo che ci possiamo uscire e giocare molto meglio. Però la situazione adesso è così e bisogna allenarci e migliorare. Come Capitano ti sarai fatto un'idea anche come termometro dello spogliatoio, cosa pensi dei tuoi compagni? Beh, vedo i ragazzi un po' giù, li provo perché io di natura sono positivo quindi cerco di aiutarli, di farli uscire da questa situazione. Vedo anche per fortuna che il pubblico ci sostiene, che è un gran mano e speriamo che continuino ad avvenire perché è molto importante per noi in questa situazione. Oggi abbiamo visto un po' di malumore nella fossa, cosa ti senti di dire ancora? Abbiamo bisogno di loro, come puoi invitarli ancora? Abbiamo tanto bisogno di loro ora più che mai perché abbiamo dedicato la nostra vita a questo gioco, ci alleniamo tutti i giorni e ci alleniamo anche tanto. E quindi immagina che per noi è ancora più difficile questa situazione perché noi vogliamo vincere, abbiamo grandi progetti nella vita da giocatori. Quindi ora più che mai abbiamo bisogno di una mano in più. Grazie Snipe, vi ricordiamo l'appuntamento tra 15 giorni al Palaparenti, sempre domenica alle ore 17. Buonasera.